Cosa cambia con le elezioni regionali 2014? Il Consiglio regionale è l'assemblea che rappresenta direttamente i cittadini del Piemonte. Eletto dai cittadini, il Consiglio è l'organo che discute e approva le leggi regionali. Con le elezioni del 2014, il Consiglio regionale sarà composto da 50 consiglieri, riuniti in gruppi consigliari secondo le diverse appartenenze politiche. A seguito della riduzione da 60 al 50 del numero dei consiglieri, i seggi saranno così distribuiti. 10 consiglieri, oltre al Presidente della Giunta, eletti con il sistema maggioritario e il cosiddetto listino. 40 consiglieri, eletti nelle circoscrizioni provinciali in base alla popolazione. La principale funzione del Consiglio è quella legislativa. Come stabilito dallo Statuto, possono presentare iniziative di legge la Giunta regionale, i consiglieri regionali, i consigli provinciali e comunali, oppure 8.000 elettori mediante iniziativa legislativa popolare. Sulla scheda verde si vota per eleggere il Presidente della Regione e il nuovo Consiglio regionale, domenica 25 maggio, dalle ore 7 alle ore 23. Gentili telespettatori, buona giornata dalla redazione del Tg di Rete Canavese. Niente titoli oggi perché siamo alla vigilia dell'arrivo del Giro d'Italia in Canavese, poi fra tre giorni si andrà anche a votare. Sono questi gli argomenti che caratterizzeranno il nostro Tg, anche se poi avremo il Tg Amici Animali che tornerà sul fatto di mazzè, dell'uomo che ha ammazzato a martellate e a pugnalate il suo cucciolo di appena 11 mesi. Poi sentiremo anche altri problemi per quanto riguarda invece la tutela degli animali e la loro salute, parleremo anche di un'iniziativa dei colleghi a favore dei profughi siriani. Insomma, cronaca, ma soprattutto vedremo Giro d'Italia e elezioni. Partiamo prima con la cronaca. Hanno sfondato una finestra della scuola elementare di via San Francesco a Rivarolo, sono entrati nell'aula di informatica e hanno rubato quattro computer e una lavagna elettronica. Solo l'ennesimo saccheggio perpetrato ai danni della vecchia scuola elementare di Rivarolo che dovrebbe essere dismesse nel prossimo anno scolastico. E poi un lancio di sassi ha bloccato questa mattina a Chivasso il treno regionale veloce Torino-Milano rimasto danneggiato. Le ferrovie di Stato hanno messo a disposizione dei passeggeri una freccia bianca a Torino-Venezia. Nel frattempo però i pendolari per protesta hanno occupato per un quarto d'ora i binari della stazione di Santià. Hanno poi usufruito anche loro del freccia bianca e di un altro regionale veloce che ha subito comunque ritardi dai 15 ai 30 minuti. Dicevamo Giro d'Italia e elezioni. Domani arriva il Giro, ma fra tre giorni si vota per il rinnovo del Parlamento europeo, del Consiglio regionale e di più di 100 comuni. Allora cominciamo dalle elezioni e proseguiamo il nostro viaggio nei comuni nei quali si va al voto domenica per il rinnovo dei consigli comunali. Penultimo gruppo di comuni al voto domenica per il rinnovo dei consigli comunali. Partiamo da Oglianico dove il sindaco uscente è Onorino Freddi che non si ricandida. Due candidati alla poltrona di primo cittadino, Massimo Cattaneo e Leonardo Vacca. A Vauda invece, dove il sindaco uscente è Bartolomeo Chiadorana, sono quattro i candidati. Alessandro Florio, Massimo De Stefanis, lo stesso Bartolomeo Chiadorana e Daniela Zaccaria. A Settimo Vittone il sindaco uscente è Sabrina Noro che si ricandida, ma dovrà vedersela anche con Domenico Gabriele e Costantino Salaris. A Busano il sindaco uscente è Gian Battistino Chiono, tre i candidati, Eugenio Matteis, Alessandro Luongo e lo stesso Gian Battistino Chiono. E poi Locana il sindaco uscente è Giovanni Bruno Mattiet che si ricandida, il suo avversario è Mauro Guglielmetti. A Barbania il sindaco uscente è Giovanni Drovetti ed è anche l'unico candidato alla sua successione. A Riva Rossa il sindaco uscente è Gianluca Vallero che non si ricandida, due i candidati alla carica di primo cittadino, Giovanni Amateis ed Enrico Vallino. A Lombardore è Pietro Mussetta il sindaco uscente che si ricandida, ma che avrà due avversari, Antonella Forgia e Diego Maria Bili. A fronte il sindaco uscente Claudio Bianco che non si ricandida, due i candidati, Sergio Milani e Andrea Perino. A Rocca invece Fabrizio Bertetto il sindaco uscente, i candidati sono Giuseppe Paolo Anglesio e lo stesso Fabrizio Bertetto. E poi la Cassa, il sindaco uscente Roberto Rolle che sarà candidato e se la dovrà vedere con Alberto Maria Casale. Mentre a Salassa, dove il sindaco uscente è Giuseppe Ansinello, c'è un unico candidato, Sergio Angelo Gelmini. A Rondissone il sindaco uscente è Franco Lomater. I candidati alla sua successione sono tre, Nicola Scherzi, Michele Biscotti e Miriam De Ross. Mentre a Lessolo il sindaco uscente è Franco Siccheri e i candidati alla sua successione sono due, Elena Caffaro e Alberto Fiobellotti. A Chiaverano il sindaco uscente è Maurizio Fiorentini. I candidati sono due, Giancarlo Crispini e lo stesso Maurizio Fiorentini. A Foglizzo invece il sindaco uscente, Tiziana Reinero, non si ricandida alla carica di primo cittadino. Due sono i candidati sindaco, Fulvio Gallenca e Renato Mezzo. A Dagliè il sindaco uscente è Edi Gianotti e sono tre i candidati alla carica di primo cittadino. La stessa è Edi Gianotti, Marco Succio e Manuela Muzzolini. Arrivare il sindaco uscente è Gianluca Quarelli. I due candidati sono Lorenzo Terrando e lo stesso Gianluca Quarelli. A San Giorgio il sindaco uscente è Massimo Arrie e sono due i candidati alla sua successione. Andrea Zanusso e Lodovico Bardesono. Mentre a Romano il sindaco uscente è Oscarino Ferrero. Qui i candidati alla carica di sindaco sono tre, Stefano Bei, Dario Bartolomeo Formento Cavie e lo stesso Oscarino Ferrero. A Robassomero il sindaco uscente è Antonio Massa ed è lui l'unico candidato in questa tornata elettorale alla carica di sindaco. E con Robassomero finiscono i comuni al di sotto dei 3.000 abitanti. Domani, nell'ultima sessione di comuni, vedremo i comuni più grandi, quelli dai 3.000 fino a oltre i 15.000 abitanti. E poi il Giro d'Italia di ciclismo. Cominciamo col dire che domani, in occasione dell'arrivo della tredicesima tappa, saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Rivarolo. A Castellamonte sarà chiuso soltanto il liceo artistico Felice Faccio, mentre è prevista l'uscita anticipata alle 12.30 per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie. A Quornier e negli altri comuni, regolarmente aperti tutti gli istituti scolastici. Però attenzione alla viabilità. Allora, sulla nostra pagina Facebook abbiamo linkato un sito, Obiettivo News, della collega Magda Bersini, nella quale c'è comune per comune, orario per orario, via per via, tutte le vie chiuse e come comportarsi per le alternative. Fate molta attenzione, ripeto, sulla nostra pagina Facebook trovate tutte queste indicazioni, perché da Volpiano dove entra il Giro, praticamente a Rivarolo, e soprattutto nella zona dell'Alto Canavese ci sarà una grande criticità. Il Giro d'Italia è un evento che porterà in Canavese, si stima, 50.000 persone domani, ma creerà anche dei disagi. Per evitare discussioni che nascono sempre in questi casi, consultate molto bene le indicazioni, ripeto, che trovate sulla nostra pagina Facebook. Dal link potrete risalire a tutti gli orari e a tutte le chiusure delle strade. La tappa di domani, la Fossano-Rivarolo, non presenta grandi difficoltà. La lunghezza non è eccessiva, 158 chilometri. Due soli scollinamenti a Baldissero e a Rivara, dove c'è il Gran Premio della Montagna di Giornata, peraltro un Gran Premio ovviamente solo di quarta categoria. I corridori entreranno in Canavese a Volpiano verso le 15.30. L'arrivo a Rivarolo è previsto attorno alle 16.30. Vi ricordo ancora sulla nostra pagina Facebook tutti gli orari con le chiusure delle strade e i percorsi alternativi. Intanto all'hotel Rivarolo, aspettando l'arrivo della tappa, è spuntato un fior di giro. Tra le tante iniziative collaterali al Giro d'Italia, anche il Liceo Artistico Faccio fa la sua parte con un gruppo di studenti coinvolti nella realizzazione di un'opera dedicata al Giro. L'idea è stata del signor Mauro Mattiò, da titolare dell'hotel Rivarolo, in cui voleva fare una scultura proprio dedicata al passaggio del Giro d'Italia. Il progetto ha preso spunto dai studi formali dei ragazzi della quinta A della sezione disegnatore di architettura di arredamento dell'Istituto d'Arte, che è adesso diventato liceo. Da questi spunti è nata l'idea, da uno schizzo, da un semplice schizzo di una sfera con tanti piccoli cerchi, è poi nata un'idea ed è esplosa. Quindi tutti i bozzetti dei ragazzi hanno concorso come fosse una corsa o una gara ed è esplosa in un cerchio, un cerchio rosa all'interno di tanti cerchi che simboleggiano la ruota, il cerchio che è espressione dell'unità, della perfezione e quindi di unione, non di rottura. Le ruote sono proprio il simbolo del giro, dell'energia, del progresso e quindi anche l'innovazione della gara. Poi con le mani abili degli artigiani, in questo caso di Marchion e con il coordinamento progettuale tra gli altri artigiani si è riuscito a fare questa struttura che pesa più di 200 quintali e quindi ha determinato una leggerezza e sbocciato un fiore da tutti questi bozzetti che si trovate nel piedistallo e quindi noi l'abbiamo battezzata Fior di Giro. E fra i tanti che saluteranno il giro, soprattutto i bambini, a Cornel, gli alunni della scuola primaria Aldo Peno insieme a quelli di Prascorsano saluteranno il giro con un grandioso allestimento in Piazza Martiri della Libertà. Grandi e piccini saranno disposti in modo da formare un'Italia contenuta all'interno di una grandissima ruota, di una bicicletta in movimento. Questa sera a Cornel, vi ricordo, in attesa del giro è programmata la Notte Rosa, con strade chiusa al traffico, piazze animate e tanta festa. Poi domani ovviamente per l'arrivo a Rivarolo sono tantissime le iniziative. Ricordiamo solo dove si svolgono, davvero l'elenco sarebbe troppo lungo. Al parco Fondazione Comunità La Torre, poi al Castello Malgrà, nel cortile dell'Istituto Santissima Annunziata, a Villa Vallero, ovviamente il giro arriva davanti a Villa Vallero, ma un po' in tutta la città, anche qui i bambini protagonisti. Poi il team fuori Honda Bike di Albiano per la tredicesima tappa organizza a Rivarolo una pedalata rosa, una cicloturistica per bici, deco, poca e vintage, atleti paraolimpici, cicloturisti e amatori. Il ritrovo è fissato alle 10.30 al bar G-Point. Per la quattordicesima tappa, il giorno dopo invece, all'Ie Europa sarà organizzata dagli E il Cimento Rosa, la Canavesana, ciclismo d'epoca eroico per il giro. Qui il ritrovo è fissato per la cicloturistica alle 9.30 al bar Nazionale. Insomma, tantissime iniziative. Domani assisteremo al giro, ci saranno problemi, come dicevamo, per la viabilità, ma ci saranno anche 50.000 persone in Canavesi e sarà certamente uno spettacolo difficilmente ripetibile. Lasciamo il giro, lasciamo le elezioni, perché Una Casa per Amir è il progetto dell'Ambulanza dal Cuore Forte, l'associazione del volontariato fondata dal fotoreporter Andrea Restek e da un gruppo di giornaliste torinesi che ha già compiuto una missione in Siria per portare medicinali alle popolazioni colpite dalla guerra. Bene, per favorire la raccolta di fondi, il 5 giugno si terrà al Teatro Gioiello di Torino un concerto. Un'altra raccolta fondi per rifugiati siriani fatta dalle giornaliste torinesi e questo proprio ci tengo a sottolineare, c'è un gruppo di giornaliste torinesi che ha deciso l'anno scorso abbiamo raccolto farmaci, un'ambulanza e le abbiamo portate ad Aleppo. Adesso abbiamo deciso di fare un concerto per poi prendere in affitto le case per rifugiati siriani nella zona turca, nel confine per un anno, pagare affitto per un anno. Ecco, questa è l'iniziativa fatta dalle giornaliste torinesi, ecco, questo sottolineo. Quando sarà l'iniziativa? Allora, il 5 giugno ci sarà concerto al Teatro Gioiello e vi vito tutti e poi il 10-15 di giugno io partirò e andrò giù e sarò presente al momento della stipula del contratto. Certo, è una piccola goccia così, ma per non dimenticare queste tragedie che ci sono, che succedono, credono, dovete capire che il 40% della popolazione siriana sono rifugiati, immaginatevi che il 40% della popolazione italiana è rifugiata. È una piccola goccia, è niente, capite? È niente, ma non lo so, anche noi giornalisti possiamo dare un piccolo contributo. È vero, siamo spesso criticati, ma questo dimostra che siamo belle persone e facciamo cose belle e positive. E come era prevedibile a causa delle forti nevicate che si sono verificate nell'inverno scorso e nelle prime settimane di questa primavera, è stata rinviata al 31 maggio la riapertura al traffico della strada provinciale 50 del Colle del Nivolè, nel tratto compreso fra la frazione Chiappili di sopra, del comune di Ceresole, e il Colle. Ed ora la linea alla collega Serenella Zeda per il Tg Amici Animali. In questa edizione, come dicevamo in apertura, torneremo a parlare dell'uccisione del cane di Mazzè con Luciano Sardino, che è intervenuto sul posto con i carabinieri e che solleva anche un altro problema, quello delle eutanasie facili, delle soppressioni di animali, che a volte avviene anche senza apparente motivo. E come avevamo annunciato, torniamo a parlare del gravissimo fatto di cronaca che è successo a Mazzè, dove un uomo di 44 anni in via Viz che ha ucciso a martellate e a coltellate il suo cane e poi l'ha seppellito nella buca che il cane di soli 11 mesi aveva scavato poco prima. Sabato sera c'è stata una protesta davanti all'abitazione di questa persona, questa persona era in casa, non c'è stato alcun segno di pentimento, anzi è uscito in giardino e con fare sprezzante ha quasi riso in faccia a tutti i manifestanti. Questo è indice importante appunto di quanto non ci sia assolutamente nessun pentimento, non è stato, possiamo dire, non è stato neppure un raptus quello che è successo. Come vi avevamo detto, torniamo a parlarne intanto per cercare di capire quel giorno appunto in cui il cane è stato ucciso, sono intervenuti i carabinieri, è intervenuto anche il canile di Caluso, che cosa è successo quel giorno? Quel giorno nel pomeriggio ho ricevuto la telefonata della vicina di casa di questo soggetto che ha ammazzato il cane e che diceva che ho assistito a un episodio molto brutto, ho visto ammazzare il mio vicino che ammazzava il cane con appunto una mazzetta da muratore e poi con il coltello, sono andato in panico, non sapevo cosa fare e alla fine ho chiamato voi. Io gli dissi che avrei potuto chiamare i carabinieri prontamente ma purtroppo la cosa era già successa. Al che ho chiamato io i carabinieri, siamo andati poi sul posto a vedere cosa era successo, io sono stato fuori ovviamente perché sono entrati i carabinieri, e dopo di che è venuto anche il veterinario reperibile del servizio veterinario dell'ASL, hanno fatto tutti i loro accertamenti, è stato fatto di seppellire il cadavere del povero cane ed è stato, l'hanno affidato a me che l'ho messo qui nel freezer del canile. Ricordo che la signora quando gli chiesi se avesse voluto eventualmente poi testimoniare in quanto testimone oculare di quanto è accaduto, negò la sua disponibilità dicendo che non voleva avere problemi. Questo è indice di un atteggiamento che non va bene, come non va bene a seguito della manifestazione di sabato sera, a cui io non ho partecipato perché ero via alla riunione annuale della nostra associazione a Rimini, però mi hanno riferito a cose che sono veramente tristi, nel senso che se c'è ancora qualcuno che ritiene di poter difendere un soggetto del genere siamo messi male come umanità, perché dovrebbe esserci una... a mio avviso, una condanna unanime di un soggetto del genere, anche perché poi non si capisce bene le potenzialità negative di questa persona, perché già il fatto che avesse questi due peluche appesi sui travi della casa, sembrano impiccati, io l'ho visto di sfuggita, non mi è sembrato una persona molto... mi ha dato da pensare, insomma, e non solo a me, anche agli altri presenti quando siamo intervenuti. Il fatto poi che ci sia un altro cane, forse dei gatti, preoccupa anche quello, nel senso che probabilmente non è così automatico dire portiamole via, si cercherà di farlo, però se il cane, l'altro cane, il cagnetto di taglia piccola, e dei genitori che apparentemente non c'entrano niente in questa vicenda, non so, vedremo come fare, quali istanze avanzare, o al comune di Mazzè o alla procura di Ivrea, per tutelare anche questo povero cane, insomma. Tra l'altro pare che in questo periodo non sia questo l'unico reato che ha avuto come vittima un animale nella nostra zona, perché ci sono anche altri gravissimi sospetti. Sì, purtroppo, come si dice, le disgrazie non vengono mai sole, e questo lo vediamo anche nella cattura dei cani, che a volte nello stesso paese trovi un cane a randaggio e subito dopo ne trovi un altro, come se ci fosse una strana legge di statistica. In questo caso, proprio ultimamente, in maggio, abbiamo ricevuto la richiesta di ritirare due cani, in una siamo intervenuti subito, solo da definire il ritiro e la documentazione del cane, se avesse avuto un microchip o che altro. Quando abbiamo, ho incaricato la mia vicepresidente, che era del posto dove c'era il cane, a Coleretto Castelnuovo, e quando ha richiamato per prelevare il cane, gli è stato risposto da queste persone che seguivano le persone proprietarie del cane che sono state portate per problemi vari in ricovero, madre e figlio, ma non tanto più in grado di intendere e di volere, mi hanno riferito. E questi hanno risposto tranquillamente che il problema era risolto, perché avevano chiamato un veterinario che aveva soppresso il cane. Con quale motivazioni? Non si sa. Voglio dire, io capisco che uno deve risolvere un problema, se io non dessi una disponibilità, la gente purtroppo, lo sappiamo, che fanno così sempre più spesso, ma noi abbiamo dato la disponibilità a ritirare il cane ed è andata così. Sicuramente la cosa è molto triste, ma fa anche rabbia vedere magari la disponibilità di un veterinario che senza tanti scrupoli esegue un'eutanasia, probabilmente su un cane sano che non aveva problemi. In più c'è stato un altro caso qui a Rodallo, che è morto un signore anziano, aveva il cane, abbastanza anziano anche lui. Ci hanno chiamato dopo qualche giorno, perché qui purtroppo il fatto che è un bombardamento giornaliero di richieste, oggi ne arriverà un altro che è anche un'altra storia molto triste per l'atteggiamento del suo proprietario. Quando ho ritelefonato per prelevare anche il cane di Rodallo, mi è stato detto che era intervenuto un veterinario privato che aveva dato il cane tanti anni prima proprio al papà di questa signora. Dopodiché ho telefonato al veterinario, che lo conosco anche, e come Giacomo mi è stato detto il nome, ho intuito che potesse aver fatto la fine che ha fatto. Dicendo che lui aveva le migliori intenzioni di sistemare il cane presso conoscenti, ma che poi il cane aveva un brutto tumore nella zona dell'ano e che quindi, vista l'età e vista tutta la cosa, si era ritenuto di doverlo sopprimere. Per dirla molto chiaramente, magari è andata anche così, però mi permetto di nutrire qualche dubbio. Anche in questo caso l'omertà che regna purtroppo in questo momento un po' tra la gente ci scoraggia, però vogliamo ribadirlo, se siete testimoni di fatti di questo genere segnalateli, perché davvero non esiste che un medico anziché salvare delle vite le sopprima senza alcun motivo. Le soluzioni ci sono sempre, se non si può più tenere un animale, se anche è malato e magari va operato, le soluzioni si possono trovare anche economiche, ma non c'è alcun motivo di dover commettere un reato, di sopprimere, di levare la vita ad un animale. Certamente, il ragionamento che fa chi vuole bene agli animali è sicuramente questo. Purtroppo bisogna riscontrare e chissà quanti casi, perché io sono abbastanza certo, quanti casi accadono, di cui noi non veniamo neanche a conoscenza, dove definiamo viene applicata un'eutanasia facile, nel senso che è chiaro che con l'eutanasia uno risolve il problema senza tante spese e in tempi brevi, però non è corretto rubare la vita a un povero animale che invece poteva ancora, essendo curato o che altro, campare ancora quello che poteva campare. È una questione delicata, perché poi comunque andare a scontrarsi o a sollevare il problema con i veterinari privati, più che i veterinari dell'Asle, che comunque non hanno una pratica operativa di questo genere sui piccoli animali. Normalmente i veterinari dell'Arsi occupano di grandi animali, da reddito e tutto. E tutti i piccoli animali sono ormai deputati totalmente ai veterinari privati, tra i quali ci sono ottime persone che prima di sopprire uccari ci pensano dieci volte. Ho potuto constatare nel corso degli anni che c'è invece chi non si fa eccessivi scrupoli nel fare un'eutanasia così, forse con un po' di leggerezza. Però, ripeto, non è semplice entrare nel dettaglio di ogni singola eutanasia, perché poi sta un po' alla moralità, alla coscienza della persona decidere di rifiutarsi, perché ci sono tanti veterinari a cui sottopongono l'idea di un'eutanasia, che si oppongono, che insistono, perché si trovano altre soluzioni, perché vedono che l'animale non è assolutamente da sopprimere. Quindi, poi purtroppo, come in tutte le cose, non solo con i cani, in tante cose, si sa che la natura umana è quello che è e quindi abbiamo il bello e il brutto dappertutto. E quindi è importante comunque parlarne, sollevare il problema, stare attenti, essere un po' più... E se ci si imbatte in situazioni spiacevoli o dubbie, cercare di sollevare il problema, anche perché magari se... sia chi ha un atteggiamento sbagliato nei confronti di un povero animale malato o anziano, magari poi ci pensa due volte se sa che chi gli sta intorno è attento, vigile e cerca di non permettere certe azioni. Torta sbrisolona Versare sul piano di lavoro le tre farine e mescolare bene con un tarocco. Aggiungere la margarina in piccoli pezzi, lo zucchero e impastare con la punta delle dita. Quando tutti gli ingredienti sono ben miscelati, aggiungere la granella di nocciole e proseguire amalgamando. Passare l'impasto fra le mani sfregandolo e sbriciolandolo finché sarà ben suddiviso. Adagiare le briciole in una tortiera formando una massa alta un centimetro o poco più. Fressare leggermente e poggiare sulla superficie qualche nocciola intera. Cuocere in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. La superficie deve risultare un leggero color nocciola. Orgermet o a a